Ciao ragazzi, ecco qua per un altro video a boxe Allora, vediamo, cominciamo con i videogiochi Ho preso per PS Vita in offerta al guest shop a 25 euro Con dentro, include 6 pacchetti di contenuti scaricabili Sto abituando bene, adesso mi fermo un po' perché il prossimo video unboxing sarà quello di The Last of Us Questa schiena di gioco Io sono per PC 1 e 2 Vediamo come se la scuola svita Fatevi largo sparando e saccheggiando in questo cramatissimo gioco di ruolo Aventuroso e fatte sfruttare al massimo i vostri soldi Acquistando questi pacchetti di contenuti Un giocatore, uno si gioca fino a due giocatori Spazio, lo sapete, la memory Ok Uno Poi Ho preso, visto che ho 3 di extra ragazzi Ho trovato un'offerta Mi piaceva, visto che adesso mi riesce a uscire Infinity Lego Marvel No, Lego Marvel, scusate Infinity Marvel 2.0 Qua il prezzo Ma io l'ho pagato 20 euro Avvo il buono sconto È nuovo, perfetto Non lo apro neanche perché Lo vedete Nuovo Poi lo proverò Di personaggi E due Questi sono i videogiochi Poi ragazzi adesso Mi sto dedicando Vabbè poi ho preso 3 cd 3 cd Hit Hot 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 Party Latina del piano E hit Mania 2014 Era un po' Troppo luce Ok Questo vi sto parlando prima Eccolo qua Vedete Infinity Malware 2.0 Ragazzi Preparatevi Guardate questo Pack Fa paura Per sentito i personaggi Cioè Questa è dentro I eroi I supereroi Ti stanno aspettando Questo è fuori Figo Vedo la che esce Lo prendo per PlayStation 4 Ora ragazzi Visto che sono partito Della Lego Me ne manca uno Che prendeva solamente domani Vi faccio vedere i miei 4 acquisti Vedete Ikima Lego Kima Mi manca La Volpe Che è Se lascio vedere Se si vede bene Che è questa Prenderò sicuramente Vediamo se ho letto a Volpe Staccamo il tato Ficca Pricci Domani Eccolo qua Questo è la Volpe Poi è finita La collezione Di questi qua Ok Niente ragazzi Questi erano i miei video Quisti Una cosa veloce Così Adesso vediamo Non penso di fare Altre acquisti A parte La fine mese Della Stovas Per il PlayStation 4 Ah poi Mi deve arrivare qualcosa Da Amazon Vecchicche da Amazon Che vi farò vedere Entro il 30 Dovrebbe arrivare Vediamo Sono Così precisi Niente ragazzi Io saluto Gianluca Saluto Valerio Saluto Sergio Mio fratello Saluto Sperchio 86 Francesco Saluto Virpul World Luca Saluto Midna E Raiden Saluto La Tana Di Mister X Chiara Saluto Tutti i ragazzi Il guest top Della Media World Saluto Salvatore Antonio Max Tutti i ragazzi Che mi seguono Saluto Valerio Vabbè Lei che mi fa Tutti i stiagalini Saluto Tutto Polona Saluto Tutti Ragazzi Tutti quanti Tutti i ragazzi Che mi scrivono Tutti i ragazzi Che mi seguono Vediamo di Crescere Con gli iscritti Sono contento Come sta andando Vi ringrazio Sto sempre Nei grandi Grazie per seguirmi Poi saluto Tutti i ragazzi Del guest top Di Buenos Aires Sono due Sono bravissimi Simpaticissimi Poi saluto Scusate Vediamo Saluto Salvatore Alessandro Gabriel Di Video Game Show Davide Gall Alex Giordano Alex Giordano Valid Abosuhame Scusate se non pronuncio bene Cable 076 Eccetera 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 Saluto tutti quanti ragazzi Io vi ringrazio Sempre carini Gentili Disponibili Poi saluto Saluto Phil Il mio socio del canale Ciao Phil Ti sta divertendo Al mare Continua così Saluto Francesca Saluto Messa la Tiziana Saluto Il capo Sa Pier Non c'è nessuno Fratellone Sergio Stefano E tutti Tutti i ragazzi Tutti voi ragazzi Buone vacanze Caricherò adesso il video Il 30 per fare l'unboxing Dell'astrovaso Non penso che non compro più niente A parte Il 30 se mi arriva la roba D'Amazon Se è puntuale Farò vedere cosa ha preso Per PS Vita E per 3DS E E niente Cosa voglio dire Ah voglio far vedere A Gabriele Va bene Come aggiungere I Il codice amici Del 3DS Allora Andiamo un po' Allora Faccio vedere Gabri Eccolo qua Allora Basta andare Sull'icona Con la faccina Questa Aspetta Se la vedi Se la metto a fuoco La vedi quella quadrata Che sorride Questa Qua Ok Vai sopra lì Ti dà la lista amici Quelli che hai Poi clicchi sul tuo E ti viene fuori Vedi il mio è questo ragazzi Il mio codice amico È questo 5344 5344 0107 0291 Ragazzi Aggiungetemi Ok E qua Poi aggiungi amici Fai qui Questa qui Questo Le segno qua Che c'è sempre Il cosino Col più E metti i codici E aggiungi gli amici Gabri Ok Spero di essere stato utile Niente ragazzi Ci vediamo al prossimo video Unbox E Buona giornata a tutti E Buona estate Ciao belli